Nuovi atti vandalici alla stazione ex FCU di San Sepolcro. Sassi contro le vetrate e porte rotte, piccoli falò all'interno della sala d'aspetto. Questo e molto altro è frutto dell'ennesima goleardia di un gruppo di vandali. Ormai all'esasperazione il gestore del vicino bar che si trova ogni fine settimana a fare i conti con questa realtà che purtroppo si ripete ciclicamente, così come l'amministrazione che già aveva emesso una diffida nei confronti di RFI. Diventa sempre più necessario infatti prendere provvedimenti per poter dare non solo decoro ma sicurezza a quest'area privata ad uso pubblico. Nella giornata di giovedì 6 agosto un gruppo di tecnici di RFI hanno effettuato un sopralluogo per definire eventuali opere di messa in sicurezza e stanno valutando l'ipotesi di chiudere l'intera area apponendo sigilli e l'installazione di una recinzione elettrificata. Nel perimetro infatti non sono più presenti le telecamere di videosorveglianza e questi eventi molto frequenti stanno diventando sempre meno arginabili e perseguibili. L'amministrazione comunale ha deciso di usare il pugno duro nei confronti dell'azienda e seppure sia stata già emessa in precedenza una diffida che intimava il gruppo RFI di mettere in sicurezza l'intera area, ad oggi sono pronti a presentare un nuovo documento per far sì che vengano presi provvedimenti urgenti a tutela di chi quotidianamente frequenta questo luogo. Grazie a tutti.